Io di patatine le ho prese tante, gustose, fragrante, non ce la faccio a stare senza, le ho provate tutte, americane, tedesche, olandesi, con la sorpresa, le mangiavo così, senza tanti complimenti, anche tre alla volta, ma nessuna è come questa. Fidati di uno che le ha provate tutte, Amica Chips è la migliore.